buongiorno a tutti io sono newtavis96 e questa è la quarta e ultima parte del nostro box di uregano plasma oggi ci toccano due bustine con l'artwork di luvia questa qui è la scatola dell'hox vuota questo qui il famosissimo vespion che abbiamo beccato al culo questo qui lo zappos ex della prima parte e poi c'è questo cure bianco ex della terza eccoci con la quarta e ultima ok iniziamo lugia ci sarebbe una carta di lugia se c'è anche la full art di lugia lugia ex codice speriamo di avere un po di fortuna ultima parte ed abbiamo mongoose level condensa pari di zondopoli coffing ralz tra bish magna white lottad lottad e torterra bello prossimo codice ok ed abbiamo raggio più tossico tra bish piloswine riolu litwick wishmore coffing fungus explode è un livanni bello questo anche non ce l'abbiamo non sapevo non me lo ricordavo almeno che ci mancheranno soltanto le ultime pull art e poi le pull art e le ex ovviamente che sono cose più rare sembra più normale qui abbiamo il codice per voi almeno un'altra dai no forse l'ultima però non ne sono certissima durant vanilish sol rock combi togepi e gm doduo litwick cleferi e gallagno peccato ebbè abbiamo ancora segustina codice eccolo qui nulla di speciale rotom coffing e gm purloin sea waddle timbur joltic vanillite rotom e un beartic questo che pacchetto è il quinto ok ed abbiamo il codice ok meno male ora ed abbiamo un wachog un grato un gol bot un vanillite un timbur un sea waddle cool un fancy un ralz un cabchou e io dico moltres siiii che culo moltres ex lo sapevo perfetto almeno abbiamo finito gli uccelli leggendari siiii e vai perchè articuno ce l'abbiamo già bellissimo articuno ce l'abbiamo già di là ma quindi il timbre smacca suolto già tre uccelli leggendari eh a quanto pare oh figo benissimo molto molto bene anche se finisse così tre si non sarebbe bene abbiamo ancora quattro bustine però comunque beh andiamo avanti delle quattro bustine molto bene l'ho pure beccato ma si davvero molto bello aver beccato questo moltres che è proprio le carte che cercava lui vedi quel zapdos e moltres e abbiamo beccato il più questa non fa mai male beh come nel secondo film lì dei poi zapdos moltres bantalugia dai di fuoco ghiaccio e fulmine l'armonia giamai aveva offesa e poi non me lo ricordo ovviamente codice ho dei tre titani dovrà difendere l'armonia dovrà difendere ecco vedi che se raggiungiamo le formule magiche la sequestria del team plasma che se argente non c'è più vanillish lunaton lgm si waddle doduo fancier purloin un bm io dico luglio ah no niente ma va a culo era era un inferno ma sei un e ho sbagliato chiedo scusa e mi spenderà così le ultime mi sembrano sempre ecco il codice questa volta non lo fa più acido si raggio più tossico acido era e ipnotossico te ne sei fatti di acidi certo swadlun sol rock zubat carvana patrat trabish togepi un nastro tattico scambio pazzo scambio pazzo come te certo è un vanillux che sta facendo spruzzo roba dalla bocca il gelato doppio gusto e beh vanillux c'ha due capri e avanti ottimo per quel moltres dai no infatti vabbè zapdos moltres pure in bianco comunque tre va bene codice poi comunque avendone già due che non ne sono uscite doppie si si avendone già due non ne ha fatto ma ma le ha cotto tre forze mamma mia forse qua è uscita una shiny ah e se charizard se con il charizard la shiny va in avanti se quel charizard nero io mi metto a urlare among us lampet urla forte che qui lì a casa ci tengono cling no è clang è uguale è clang è clang e dodo carvana togepi cerubi zubat combi eee nooo vaffanacronio questa la scambiamo ce l'abbiamo già dannazziolo vaffanacronio era già uscito in un altro video perché infatti anche quella le zigrinature infatti mi sembrava una shiny vabbè il codice dell'usina vabbè se a qualcuno interessa un agronio con la sua bellissima pettinatura se vuoi essere team plasma nonferno don fan clink pensier joltic riolu chim char magneton e un gelisone alla fine perciò quante carte sono uscite in questo questo box e devi fare 336 bustine per 10 carte ognuna 360 carte ottimo bravo però di carte di utile è uscito questo zaptosex questo curo in bianco ex questo mortosex e poi quella cromio questo lanciato c'è anche la sua tattico scambio pazzo questo qui si scambia è in più la carta più importante di tutte vespi quen ti sta guardando certo ci vediamo al prossimo video che non ho idea di cosa sarà però boh forze spettrali si c'è l'attacco dei gengar gengar e mega gengar ex ovviamente anche manectric spettacolare c'è anche edgy slash si però non ci sono i mega i mega di del set sono manectric e gengar perfetto va bene grazie a tutti per aver guardato questa quarta parte e tutta l'intera serie dell'apertura del box di uregano plasma ci vediamo con i prossimi video del canale ciao